Per la sostituzione dei presidenti di seggio assenti all'apertura delle operazioni elettorali prevista per le ore 16 di sabato 3 ottobre, gli elettori interessati alla nomina presidente di seggio in via sostitutiva, in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, devono presentare istanza via email entro il 19 settembre all'indirizzo surrogapresidenti.comune.napoli.it utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Napoli. Il 21 settembre alle ore 11 presso la sede del servizio ispettivo sito al secondo piano di via Sant'Omaso da Quino numero 15 si procederà all'estrazione di due lettere che individueranno il nominativo a partire dal quale si formerà l'elenco alfabetico definitivo degli aspiranti alla surroga. L'elenco sarà consultabile sul sito del Comune di Napoli a partire dal 22 settembre. Coloro che saranno nominati presidenti di seggio in occasioni delle elezioni amministrative dovranno ricoprire tale carica anche in caso del turno di ballottaggio, fatti salvi ovviamente sopraggiunti gravi e giustificati impedimenti.